L'impianto invisibile. Come ti costruisco un buon impianto stereo con componenti compatti, discreti e soprattutto dal costo contenuto. Amici appassionati, bentornati in Afer Club, il club dell'alta fedeltà. Bene, oggi come anticipato parleremo di un prodotto intelligente, compatto, smart, che può risolvere molte esigenze e può donarci buona musica nei nostri ambienti. Parliamo di Ellipson Connect 250. Eccolo qui, è davanti a me. Fa parte del brand Ellipson, è un prodotto Ellipson, anzi in realtà, brand francese che abbiamo imparato a conoscere, uno dei più prestigiosi e più anziani probabilmente del mondo dell'alta fedeltà. A fondare sui radici nel 1938, grazie all'ingegner Leon in Francia, con tante innovazioni, brevetti ed una fama internazionale molto ampia. Poi ovviamente periodo scuro negli anni Ottanta, ma dal 2008, ripreso in maniera importante al 100%, da un grosso gruppo francese che si occupa di audio, nostro partner, del quale distribuiamo tanti brand, ha ripreso in mano questo brand Ellipson famoso, importante, e ha continuato a costruire una serie di altoparlanti dove era focalizzata Ellipson, ed oggi con un occhio attento all'altissima qualità anche nell'alto di gamma nei diffusori, ma soprattutto con un occhio ancora più attento alle esigenze attuali di sonorizzazione, di poter utilizzare la musica in modo più smart, quindi alle odierne contemporanee esigenze di ascolto, crea, realizza una serie di prodotti molto belli e molto intelligenti. L'Ellipson Connect 250 fa parte della linea Connect appena rilasciata dell'Ellipson, della quale fan parte alcuni prodotti, abbiamo imparato a vederli parlando del Connect Wi-Fi, qui potete trovare il video per informarvi su questo streamer da aggiungere ai nostri sistemi già esistenti. C'è il W35, il sistema All-in-One, il Music Center HD Wi-Fi Connect e adesso, oggi parliamo, a completamento di gamma, dell'Ellipson Connect 250. L'Ellipson Connect 250 è un tradizionale amplificatore stereofonico, ma di tradizionale ha relativamente poco. Di tradizionale è il fatto che amplifica segnale, ha una buona potenza, ma di innovativo ha queste caratteristiche. In primis è compatto, è molto leggero, è un classe D, ha una discreta potenza, stiamo parlando di 30 watt su 8 ohm e 50 watt efficaci reali, ha una bella serie di ingressi, analogico, uscite, adesso vedremo a cosa servono, ma soprattutto la cosa più importante è la possibilità di connettersi alla rete di casa, quindi ad internet, e avere l'ingresso Bluetooth, quindi per connessioni senza cavo, quindi trasmissioni wireless. Stiamo parlando di 12 cm di lato per 3 di altezza per un peso praticamente non quantificabile, in quanto l'alimentazione di questo oggetto è separata ed è inserita in questo cabinet esterno e sì ragazzi, è proprio questo l'alimentatore del Connect 250, un enorme alimentatore per un prodotto relativamente così piccolo, che ne garantisce le performance di buon livello e soprattutto ne garantisce, cosa molto importante, una buona durabilità nel tempo e quindi affidabilità, questa è la cosa importante. Il Connect 250 prevede un ingresso analogico con jack da 3,5 mm ed il cavo è incluso nella confezione, lo troviamo all'interno del box della scatola che contiene gli accessori e quindi abbiamo già un cavo di collegamento per poter connettere un qualsiasi device, una qualsiasi sorgente e quindi avere l'ingresso analogico. Dopodiché è presente una presa RG45 per la connessione al nostro router di casa attraverso il cavo, ricordo sempre, piccola parentesi, che ove è possibile sempre bene collegare, dare segnale di rete ai nostri prodotti, ai nostri amati prodotti, sempre via cavo, ove è possibile. Il wifi resta una possibilità in più, ove col cavo non si arrivi, ove non si voglia creare una connessione cablata, ove è possibile con cavo è sempre meglio. C'è anche la connessione ovviamente wifi, quindi con antenna interna. Dopodiché c'è la connessione bluetooth, bluetooth 5.0, quindi con gli ultimi codec, che permette di poter fare streaming di musica dal proprio device, telefono, ipad, computer, quel che è, televisore ad esempio, e quindi poter alimentare con il nostro segnale, con la nostra musica, il nostro Connect 250. Dopodiché è presente un'uscita, un'uscita di segnale che è praticamente bridged, ovvero è ponticellata all'ingresso, che permette di rilanciare segnale ad altri amplificatori o ad altri Connect 250, ove ad esempio, questo è un primo esempio di installazione, si voglia sonorizzare qualche stanza della nostra abitazione. Abbiamo quattro stanze e vogliamo sonorizzarle, e qui viene la scelta dell'impianto invisibile, vogliamo sonorizzarle in maniera discreta, non so, penso alla camera dei bambini, allo studio, al bagno, qualsiasi stanze, insomma, dove non ci sia un ascolto attivo di altissimo livello, dove non siano richieste potenze enormi o funzionalità particolari. Bene, il Connect 250, grazie alla sua ingegnerizzazione, alla sua finalità, può essere tranquillamente nascosto all'interno di un controsoffitto, all'interno di un mobile, dove vogliate mettere questo piccolo scatolotto, il quale, collegato alla sua alimentazione, potrà ricevere segnale Bluetooth dall'esterno, oppure segnale di rete, attraverso l'app Ellipson, che permette di gestire flussi di segnale, è collegata a Tidal, è collegata a Kobuz, è presente la radio internet, è presente V-Tuner, che ci permette di poter ascoltare musica da tutto il mondo, viene interrotta scegliendo per generi e per particolari, molto molto interessante la possibilità di avere tanta musica che viene da tutto il mondo. E quindi, oppure un ingresso analogico, ripeto, nascondiamo il nostro amplificatore all'interno di uno scomparto, come può essere, caso estremo, il controsoffitto, e alimentiamo ad esempio una coppia di altoparlanti da incasso, quindi tutto diventa davvero invisibile, con grande qualità, ottima versatilità, e la possibilità, ripeto, di poter gestire individualmente ogni singolo prodotto. Possiamo metterne più di uno anche in stanze limitrofe, perché? Perché l'ingresso Bluetooth, dove potrebbe verificarsi il problema della multiconnessione, ovvero dell'imbarazzo della scelta, nel senso se cerchiamo dal nostro telefono un Connect 250 e ne avessimo quattro disponibili, non sapremmo a quale dovremmo collegarci. Bene, Ellipson in questo ha portato avanti un'idea che è quella di gestire attraverso un'app specifica, di poter gestire il nome, quindi poter nominare ogni singolo Connect 250, altrimenti, ove ci sia la possibilità di collegarsi in Wi-Fi, che ormai è praticamente il pane quotidiano, insomma lo facciamo tutti dentro casa per ascoltare la nostra amata musica, a questo punto c'è l'applicazione Ellipson Player. L'applicazione Ellipson Player, che gestisce tutti i prodotti Connect dell'Ellipson, permette anche di creare ovviamente ambienti multi-room, nasce anche e soprattutto per questo. In questo caso è possibile nominare i vari ambienti, quindi dove c'è il W35, in un altro ambiente c'è per l'ascolto più importante il Music Center HD Wi-Fi, da un'altra parte magari c'è il Wi-Fi Connect collegato al nostro altro impianto, la possibilità di vederli tutti attraverso un'unica app, come ormai consueto, e poter gestire vari flussi musicali attraverso un unico telefono o più telefoni, quindi poter gestire all'interno del proprio ambiente, a piacimento, il miglior modo di ascoltare la musica nel massimo comfort. Quindi possiamo definirlo davvero un impianto virtualmente invisibile, in quanto in Ellipson si sono posti la domanda e trovato la soluzione, a fine di poter occultare il nostro Connect 250, ad esempio, grazie al suo peso e alle sue dimensioni, ma anche e soprattutto grazie a due staffe in dotazione, che sono all'interno della scatola di accessori, che permetteranno di fissare il nostro amato amplificatore sotto una mensola, all'interno di un mobile, sopra un contosoffitto, su una parete, insomma, in modo da essere certi. E tra l'altro, anche per evitare possibili problemi, graffi, vibrazioni o altro, in Ellipson hanno anche inserito una coppia di strisce gommate al fine di poter far massima presa sulle staffe, quindi rendere ancora più stabile e sicuro nel tempo l'alloggiamento del Connect 250. Bene, abbiamo parlato di impianto invisibile, abbiamo capito perché invisibile, virtualmente invisibile, il nostro Connect 250, dimensioni, possibilità della gestione attraverso il Bluetooth, attraverso il Wi-Fi, ma anche attraverso un remote, un telecomando classico, perché ove non ci sia la possibilità di connetterlo alla rete, ove non lo si voglia utilizzare in Bluetooth, ma semplicemente in analogico, oppure lo si voglia gestire diversamente, il remote è in dotazione e quindi riproduce tutte le funzioni del nostro Connect 250 e potremo utilizzarlo semplicemente inviando segnale dal nostro telecomando, è un infrarosso, all'amplificatore. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea, se nascondo il Connect 250 all'interno di un mobile dove il raggio infrarosso non passa, il telecomando non passa, come posso riuscire a comandarlo da telecomando, come posso riuscire ad integrare magari anche con altri telecomandi degli all-in-one? In Ellipson hanno trovato la soluzione anche a questo, perché all'interno della confezione troviamo un estensore del ricevitore infrarosso, eccolo qui, che può essere semplicemente poggiato fuori, in parte visibile ed accessibile al telecomando, quindi vediamo che riusciamo ad utilizzarlo in mille e mille modi, non rimarremo mai senza la possibilità di poter comandare il nostro Connect 250, anche perché nell'ipotesi più sfortunata, nessun Bluetooth per potergli mandare musica, non c'è la possibilità di gestirlo attraverso l'app, non ho il telecomando, quindi non posso fisicamente utilizzare il telecomando, bene, sul cabinet nella parte superiore troviamo duplicati, replicati tutti i comandi per poter utilizzare il nostro 250 nel miglior modo e nella massima tranquillità. Oltre all'utilizzo invisibile o virtualmente invisibile, può essere utilizzato e può far parte di un sistema audio stereo di alta qualità anche con componenti tradizionali, perché no? Non fatevi ingannare, non fatevi tradire dalle compatte dimensioni e dal peso di questo oggetto, perché? Perché qui è possibile ottenere la gestione del segnale in questo modo, con queste dimensioni e con questo peso, per un motivo semplice, perché l'alimentazione, che è la parte più importante dei nostri amplificatori, è separata, è messa un cabinet esterno. In primis per evitare di ingombrare, di rendere il prodotto meno facile da occultare o da sistemare sostanzialmente, ma anche perché allontanando l'alimentazione, e qui gli audiofili oppure gli esperti sanno benissimo il valore di poter separare l'alimentazione fisicamente dalla sezione dei circuiti che gestiscono il segnale, il fatto di poterlo mettere esternamente, aumenta, ripeto, anche la qualità, anche se stiamo parlando di un prodotto entry level, quindi che permette ovviamente di accedere, di entrare nel mondo dell'alta fedeltà ad un costo contenuto. Ma soprattutto volevo soffermarvi su questo oggetto, perché davvero stiamo parlando di 24 volte per 5 ampere, e quindi è uno di quegli alimentatori che dura nel tempo ed è capace davvero di erogare corrente e quindi dare stabilità anche al pilotaggio dei diffusori. Certo, la sua potenza non permette di sonorizzare ambienti da 100 metri quadrati, ma ad esempio con una KEF Q150, con una Tangent Spectrum, la X4, la X5, oppure una Ellipson Facette, è possibile utilizzare questo amplificatore per pilotare questi diffusori e quindi magari in ambienti piccoli ottenere un ottimo risultato, grande versatilità e perché no un buon suono. A proposito di buon suono, vi informo che il Connect 250 è capace di fare streaming e di gestire i segnali anche 24 bit 44.1 kHz. Questo significa miglior qualità rispetto al CD e quindi la possibilità di ascoltare anche registrazioni o streaming di musica in 24 bit. Adesso vediamo come collegarlo. Abbiamo visto che possiamo utilizzarlo con altoparlanti da incasso all'interno di un muro, altoparlanti esterni. La cosa più evidente che possiamo notare è la copertura in plastica, sigillata. Il pannello di connessioni posteriore presenta un jack che permette di collegare il nostro estensore per il remote, un ingresso analogico jack 3.5 con cavo incluso, un'uscita audio parallela quindi perfettamente a ponte con quella in ingresso per poter rilanciare segnale ad altri amplificatori, la presa di rete Ethernet e i connettori per i diffusori che notiamo essere di buona qualità e anche molto pratici. Sono a molla e accettano cavo spellato oppure stagnato anche di buone dimensioni fino ai 4 mm. Piccola nota, per migliorare l'esperienza d'uso e facilitare la connessione al router, in Ellipson hanno installato all'interno del nostro Connect 250 il tasto WPS che permette, senza andare a fare procedure complesse, di connettersi in modo semplicissimo al nostro router. Basterà premere per qualche secondo il tastino WPS e quindi potersi connettere al proprio router. Beh ragazzi, che dire, è un prodotto di alto livello per quello che deve fare. È compatto, è affidabile, ha un prezzo assolutamente conveniente perché costa 279 euro con tutto quello che è in dotazione. Quindi per ascoltare musica nel miglior modo possibile, in modo più semplice possibile, personalizzare in qualsiasi ambiente, tenete presente che la serie Connect, soprattutto il Connect 250, potrebbe essere la scelta giusta. Bene, con questo è tutto, vi saluto e dal prossimo video. Ciao ragazzi!